Domenica torna il campionato di Lega Pro con la ventiquattresima giornata di campionato. La prima gara di un lungo trittico che vedrà le società affrontare otto partite in un mese, un vero e proprio tour de force che metterà a dura prova i giocatori. Tornando alla prossima giornata con il Gironci che scenderà in campo domenica 30 gennaio, il big match di giornata sarà quello tra Monopoli e Virtus Francavilla, un derby pugliese importante per la classifica con i due club distanti solo due lunghezze. Il Monopoli riduce dal pareggio ottenuto contro l'Avellino, mentre il Francavilla dà la vittoria per 5-1 contro il Messina. Una gara importante per definire nuovamente la gerarchia per il secondo posto in classifica con i bianco-verdi pugliesi pronti ad affermarsi come possibile inseguitrice del Bari. Al contrario la squadra di Mister Mignani sarà occupata in trasferta ad affrontare la Paganese, una gara importante per i Bari che deve riprendere il proprio cammino dopo il pareggio sofferto ottenuto contro il Catania. Gli Etnei, questo ventiquattresimo turno di campionato, scenderanno in campo contro il Catanzaro di Mister Vivarini. Il Catania cerca punti per continuare il proprio percorso sportivo, mentre in città si discute solo delle beghe societarie. Il Catanzaro, al contrario, deve vincere dopo il mercato faraonico portato avanti in questa sessione di mercato. La squadra di Vivarini è riduce dal pareggio per 0-0 contro il Palermo, dove sono piovute molte critiche sulla squadra calabrese per il gioco espresso. Scontro Solvezzo tra Fidelissandri e Campobasso e si affronteranno in questo turno di campionato. I Mollisani vogliono i tre punti per scacciare la zona play-out il più lontano possibile, approfittando anche della difficile gara per il Monterosi che affronterà in trasferta il Palermo. Continua il cammino della Turris di Mister Caneo. Il Corralini, dopo l'arrivo di Andrea Sbraga, hanno ulteriormente puntellato la propria rosa. Contro la Vibonese, ultimo in classifica a pare punti con il Potenza, la Turris vuole ottenere i tre punti, continuando la corsa per la zona alta della classifica. Rimanendo in zona retrocessione, il Messina affronterà il Picerno. Scontro valido per gli ultimi posti in zona play-off tra Latina e Taranto. A chiudere la giornata di campionato ci penserà la gara di lunedì sera tra Juve Stubb e il Foggia di Zeman. Grazie a tutti.